Ciao Valeria, guarda, un po' di voce te la do proprio volentieri a te e a tutti gli amici e le amiche che attraverso Curdown possono far sentire la propria voce, quindi il mio vocione forte e chiaro lo do a tutti i ragazzi come te e ti do anche un bel abbraccio e un bel bacione e ti volevo presentare un amico, vieni qui, eccolo, lui è Leone, ti piace? Anche lui ti saluta, saluta Valeria, Leone, ciao, è ancora piccolo, lui ancora non abbaglia, però tra un po' abbaglierà e parlerà pure, quando parla ti manderò un altro video, ciao, saluta Valeria, ciao!